Sono le otto del mattino, le otto del mattino di domenica mattina, io non sapevo neanche se stessero le otto del mattino di domenica mattina, la mattina sia peggiore della settimana e niente, direzione correggio, oggi si inizia il video Ora io ci teniamo, nessuno ci può tenere Musica Panza dentro ste, panza dentro Rimanga già il piazza Musica Musica Bene, se voluto Musica 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 Musica